Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti e benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepariamo insieme la focaccia. Oggi prepariamo insieme la focaccia. Iniziamo subito la preparazione. Vi ricordo che tutti gli ingredienti e le dosi li troverete sotto al video in info box. Ed ora iniziamo. Naturalmente io uso la planetaria ma questo impasto può essere benissimo lavorato a mano. Inizio con mettere nel boccale della planetaria l'acqua a temperatura ambiente. Aggiungo il lievito secco, l'olio e un cucchiaino di miele. Se non avete il miele potete sostituirlo con un cucchiaino di zucchero. Questo serve ad attivare la lievitazione. Metto metà della farina e inizio a impastare. Fatto assorbire tutta la farina, aggiungo il sale. E poi piano piano aggiungerò il restante della farina. Fatto assorbire tutta la farina, faccio lavorare per almeno 15 minuti. Ed ecco qui, adesso abbiamo lavorato l'impasto e lo svuoterò sulla spianatoia per poi farlo riposare. Un po' di farina. Ed ecco qui il nostro impasto bello morbido. Niente, non ci resta che dargli un po' di forza. Formiamo un panetto, un po' di farina e lo lasciamo così. Mettiamo qui, lo copriamo e lasciamo lievitare. L'impasto è riposato per 20 minuti. A questo punto non ci resta che prendere l'impasto, schiacciarlo. Lo allarghiamo un po' e faremo delle pieghe per rinforzare l'impasto. Magari ci aiutiamo con un po' di farina e facciamo questo movimento. E andiamo a schiacciarlo di nuovo. Possiamo fare anche un'altra piega. Nodo che si rinforza. Quindi, rigiro e schiaccio. Ed ecco qua. Ho preparato una teglia da 40 per 30. Questa è adatta per il peso dell'impasto. Metto sulla teglia un po' di olio. E metto sopra l'impasto. Ungiamo anche un po' la parte superiore dell'impasto. Così lo manteniamo morbido e non si forma la crusta. Ed ecco qui. Adesso non ci resta che far lievitare l'impasto così come nella teglia. Quindi il modo migliore per non far prendere spifferi d'aria è quello di metterlo sotto al forno spento con la luce accesa. fino a che non raddoppia di volume. E' passata un'ora e mezza. L'impasto è raddoppiato. E adesso andiamo a sistemarlo per bene nella teglia. Senza tirare andiamo semplicemente a schiacciare. Come vedete. Così. Una volta sistemato l'impasto nella teglia cospargo con un leggero velo di sale. Questo serve anche per non far fare la crusta all'impasto. Ed ora lo lascio riposare per altri 15-20 minuti. 20 minuti sono passati ed ora andiamo a realizzare i classici buchi della focaccia. Per prima cosa mettiamo sulla superficie della focaccia un po' di acqua tiepida mi raccomando non bollente un po' di acqua tiepida e dell'olio extravergine di oliva e cominciamo a stendere l'olio in tutte le parti l'olio e l'acqua. L'acqua serve per far rimanere i buchi bianchi classici della focaccia. Ok. Ed ora con l'ausilio dei polpastrelli andiamo a formare i buchi. Quindi andiamo a pressare Esistono vari modi per condire la focaccia. Possiamo iniziare dal fare la focaccia semplice quella lì solo bianca con gli aghetti di rosmarino oppure condirla con pomodorini, con cipolle e quindi è quello che noi preferiamo. Adesso io farò la farò in tre modi per dare un esempio e quindi la farò con dei pomodorini con le olive e con gli aghetti di rosmarino. e quindi andiamo a fare la focaccia semplice. Ed ora non ci resta che farla riposare per altri 15 minuti e poi dopo la inforniamo. A dopo. Amici carissimi la focaccia è uscita dal forno come vedete è bellissima. L'ho infornata a 200 gradi forno ventilato per 15 minuti se avete il forno statico aumentate di circa 10 gradi la temperatura ed ora la metterò sulla griglia per farla intiepidire e quindi per non farla diventare morbida sotto. Ed ora per chiudere in bellezza spennello con un po' di olio extravergine tutta la superficie. Amici e amiche mie spero che questa ricetta sia stata al nostro gradimento. Vi aspetto alla prossima un like al video iscrivetevi al canale e se vi piace commentate. E mi raccomando attivate sempre la campanella per avere tutte le notifiche. Io vi do una rivederci un grazie e un abbraccio a tutti da Zia Franca.